Ambasciatore a Pescara con i ragazzi del Vietnam, l'Under-19 del Vietnam, come mai questa visita in Abruzzo? È una continuazione di un rapporto di ambicizia che noi stiamo costruendo con la regione di Abruzzo e con la città di Pescara. E noi pensiamo che uno dei punti di eccellenza che l'oriental locale può offrire è proprio il calcio. Avete girato diverse città nel nostro paese, anche per conoscere, come diceva lei, il nostro calcio, un calcio che per oggi è un po' in crisi. No, beh, attenzione, l'Italia dal punto di vista del calcio giocato, del calcio dell'organizzazione, del calcio dell'allenamento, il calcio proprio, secondo me, è ancora un calcio molto avanzato. La squadra vietnamita in queste settimane ha girato a Perugia, a Roma, a Pescara, ha giocato con le squadre dell'anno 19 e quindi hanno acquisito delle esperienze positive e importanti. Lei prima ha parlato con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e ha invitato il Pescara il prossimo anno in Vietnam. Noi abbiamo invitato la squadra giovanile di Pescara in Vietnam l'anno prossimo e il presidente di Pescara ha accettato, ben volentieri. Ci sarà un torneo internazionale in Saigon l'anno prossimo a giugno. Secondo è che dal punto di vista della collaborazione economica che vogliamo accrescere questo rapporto tra la regione Abruzzo e il Vietnam. Perché? Perché qui hanno dei prodotti di eccellenza che servono al mercato vietnamita.